Cucu! Ciao collega, sui canali digitali vince l'immediatezza e l'emozione. Se il messaggio non colpisce lo spettatore nei primi secondi, zap! È già da un'altra parte. Le mie statistiche parlano chiaro. Sui social i video che procurano emozione e curiosità vincono a mani basse verso i video che descrivono la casa. 90 secondi la durata che ti consiglio, due minuti è già il limite, ma sappi che dopo 30 secondi chi sta guardando un mio video è già sul mio sito o è da un'altra parte. Se è vero che una foto vale più di mille parole, con buona pace di chi si occupa di scrivere, quanto vale di più un video? Il video marketing immobiliare può essere usato in mille modi, per pubblicizzare una casa, certamente, ma anche per creare un canale di comunicazione con i tuoi clienti, promuovere la tua agenzia, il tuo staff, i tuoi servizi, per dare formazione a chi collabora con te, per raccogliere le testimonianze dei clienti, per diventare l'agente immobiliare più conosciuto in città. Insomma, i video sono e saranno sempre il modo più naturale, immediato, spontaneo e veloce di raggiungere un pubblico. Una recente ricerca di HubSpot dice chiaramente che i video sono di gran lunga il format più richiesto dai clienti, che dichiarano espressamente la loro propensione all'acquisto se il prodotto è presentato con un video. Guarda caso Amazon sta inserendo i video di fianco alle fotografie dei propri prodotti. Niente di nuovo, cioè il 3 febbraio del 57 andava in onda sulla Rai il primo carosello, che non era altro che una serie di video promozionali di prodotti da rendere. Ma fino a ieri la possibilità di utilizzare certi strumenti e la capacità di diffondere il messaggio video era da pannaggio solo delle grandi reti televisive. Ciò che rivoluziona il modo di vendere le case oggi, grazie al mio sistema, è che tutti, dico tutti e dico proprio tutti, sono in grado di produrre da soli i video che acquisiscono e vendono case in modo semplice, veloce ed economico. Per darti un'idea di come funziona, io in media impiego circa 30 minuti per fare le riprese di un appartamento medio, dai diciamo un due camere da letto. Poi le mie riprese le invio a OneMe, il nostro partner esclusivo che si occupa di realizzare il video, con la musica di sottofondo, il titolo iniziale, la scheda finale che parla della mia agenzia, il tutto per meno di 30 euro. Meno di 30 euro! Entro 72 ore, ma quasi sempre entro meno di 48, lo ricevo e lo posso pubblicare sui miei canali social, provocando una marea di contatti che non sono solo profilati, ma sono emozionati. Cioè sono persone che, stanche di passare le notti a spulciare annunci sui portali, hanno visto passare il video sui loro telefoni e hanno cliccato su scopri di più, atterrando direttamente sul mio sito, cioè saltando a pie pari i portali immobiliari. Queste persone, incuriosite dal video e stanche, stanche, delle tante ricerche infruttuose precedenti, tendono a volermi incontrare di persona per chiedermi aiuto nella ricerca della loro nuova casa. Escono dal web ed entrano nel mio ufficio. Ma non entrano solo loro! Anche chi sta cercando di vendere casa, e magari non ci riesce da mesi, viene a scoprire se c'è un sistema diverso, più veloce, più performante per vendere la propria casa. bingo! Ecco come funziona il video marketing immobiliare. Dà alla gente cosa preferisce vedere i video, per portarli dentro i tuoi uffici a parlare con te di comprare e vendere case. Ma non è questo ciò che vuoi.